din dong hello amici di youtube benvenuti ad una nuova puntata del processo di parrucco it quanti di voi stanno ancora festeggiando come me per la vittoria di jay uso finalmente jay ce l'abbiamo fatta finalmente abbiamo vinto un titolo singolo grande jay ce l'abbiamo fatta subito anche voi se state godendo ancora per la vittoria di jay un bel like nei commenti ditemi la vostra sulla settimana in casa wwe e se non l'avete ancora fatto mi raccomando lasciate un follower al canale che a voi non vi costa nulla per noi è importantissimo stiamo crescendo piano piano dai che riusciamo magari entro fine anno ad arrivare sui 4.500 iscritti sarebbe un ottimo traguardo per per noi detto questo non mi dilungo oltre smackdown per me batte ancora row nonostante il gran finale di roma qui è più un mio parlare da tifoso ecco mettiamola così anche se questa rubrica lo ripeto perché è nuovo visto che ancora qualcuno nei commenti dice che non sono oggettivo detto sinceramente a me dell'oggettività non mi interessa il wrestling è una cosa secondo me soggettiva è bello parlarne in modo soggettivo e quindi io vi dico la mia qui nel video e voi nei commenti poi ci sta che non siamo d'accordo perché il bello è questo però ecco una rubrica che si chiama il processo di parrucco è ovvio che non sia oggettivo ma detto questo non mi dilungo oltre vado con i bocciati della settimana secondo me non ce ne sono smackdown ma per me row è stata un po' bruttina soprattutto la prima ora ma andiamo in ordine questo questa nuova stipulazione qui mi fa schifo detto proprio come va detto cioè questa cosa qui della gabbia va sia a riprendere una cosa del passato con dominic che è stato in storyline in prigione un anno e mezzo fa due anni fa circa va a riprendere un po' quella cosa lì ma non mi piace non mi piace perché va a togliere il focus sulla rivalità e sulla cintura e qui il focus sembra più dominic misterio e questa cosa lì appesa la gabbia appesa in alto sembra un po' come per dire è ovvio che non lo conterrà è ovvio che farà qualcosa magari farà cadere un tirapugni dall'alto un qualcosa che aiuterà live secondo me quindi smorza un po' secondo me quello che è l'entusiasmo del del match in vista di bad blood questa cosa qui non l'ho capita cioè l'ho capita ma non mi è piaciuta e quindi va a finire nei bocciati come va a finire nei bocciati gunter non il match perché il match che tra l'altro è stato un rematch di quello che abbiamo visto a bologna tra l'altro un match tra semi e kaiser il match è stato anche buono ma questo gunter vigliacco codardo ancora basta cioè gunter teoricamente è un brock lesnar con i giusti paragoni con le giuste proporzioni ovvio però c'è gunter è uno che ha sempre distrutto tutti quelli che sono parati davanti e adesso ha paura di semi day in cioè capisco che ti ha battuto avreste il menia però stando a quello che ci dici sempre te gunter dovresti avere voglia di rivincita voglia di rifarti voglia di dimostrare che sei tu il più forte e invece con questa narrativa qui sembra il codardo il dominic paragone anche qui forte me ne rendo conto però è per farvi capire quello che penso ecco quindi bocciato questa cosa qui di di gunter come boccio anche il promo di drew mckintern alla fine hanno fatto hanno preso il promo di punk l'hanno incollato su drew mckintern e hanno cambiato i soggetti ovviamente perché la moglie non è uguale e quindi qualcosina hanno cambiato ma è stato un copia incolla preso il promo di punk drew ripetilo te basta fine puoi anche non farli sti promo puoi anche fare un semplice recap come hai fatto durante la puntata di rock hai fatto il recap di quelli che si sono detti roman e codi a smackdown puoi fare la stessa cosa con loro magari e ma non ne vedo la necessità non ne vedo il bisogno ripeto è stata una puntata di rock e soprattutto veramente la prima ora brutta 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 secondo me che salva un pochino il match tra semi e kaiser andando però con i promossi l'opener di smackdown per me è una piccola perla e le night conferma di lavorare benissimo con atleti che sanno saltare sanno muoversi velocemente e lui lì è un asso e le night quando ha l'avversario giusto come andrade come logan paul e le night è fenomenale quindi contento di questo opener vittoria scontata di le night sicuramente però ben contento di questa di questo match ottimo per la smackdown promuovo anche giovanni vinci so che forse sarà in minoranza però almeno se ne continua a parlare si continua a parlare di quello che è accaduto nel post mess del post match giovanni vinci sta venendo costruito come quello che se la tira vuole apparire in un modo è troppo sicuro di sé ed è un qualcosa che secondo me è ottimo rispetto a un ho battuto a pollo boom adesso andiamo a battere baron corbin per dirne un'altra ecco quindi contento che se ne sta continuando a parlare perché si sta parlando più di lui che di altre cose e quindi contento di questa cosa qui ora però secondo me serve una prestazione convincente spero che arrivi a smackdown con una vittoria però contento con questo ennesimo stop diciamo a livello di verdetto del match ma nel post match diciamo ha vinto lo scontro ecco quindi contento per questa cosa qui promuovo anche l'incontro di coppia femminile mi ha sorpreso perché chi ha visto l'episodio precedente mi aspettavo una vittoria delle due hill invece ha vinto le face credo che oramai si andrà in un incontro a tre per per bad blood e niente anche qui gran bella contesa di coppia belli tutti c'è un bel incontro nulla nulla da aggiungere come promuovo questo è cinema ragazzi cioè qui 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 non c'è nulla da dire qui è da dire bravi a tutti bravo Cody bravo Roman bravo che ha studiato tutte queste cose qui mi è piaciuto quando Roman ha detto io qui ho lottato quando giocavo a baseball o a football americano football americano scusate e Cody che dice la mia famiglia nello stadio lì invece ha versato sangue io questa è la mia questo è il tuo stadio questa è la mia città quasi andare a un rialzo cioè a far capire ancora che Cody in questo momento è più grande di Roman mi è piaciuto moltissimo le parole di Roman che dice io non ho nulla cioè per la prima volta dopo anni non ho nessun peso su di me e questa per me è un'altra piccola perla e nel finale che gli dice tu non incroci la mia strada qui adesso ma lo incroci nella mia vita e questo match qui è che si vedrà bad blood per me è apertissimo a tutto cioè non mi stupirei di vedere Roman che perde uno due tre perché magari Cody non lo aiuta o Kevin Owens per quello che vedremo più avanti anzi mi aggancio a questa cosa qui per parlare anche di questo Kevin Owens cioè non mi stupirei che questa che Roman perdesse per un'interferenza di Cody per un'interferenza di The Rock perché The Rock alla fine cioè Roman si è alleato con il nemico di The Rock e non mi stupirei per nulla questo Kevin Owens è oro cioè sta diventando una piccola perla anche Kevin Owens ed è ottimo visto che ha passato mesi ancora con la bloodline lì così a stagnare e potrebbe rivelarsi un con questa sua diciamo doppia personalità e cominciamo così voltare la faccia al suo amico Cody perché Cody si è schienato con il nemico di tutti con Roman Reigns e per me ho una puntata di SmackDown veramente eccezionale secondo me passando a Raw voglio promuovere comunque l'incontro di coppia femminile tra le streghe e le damage control le no le union le damage control gran bel incontro anche questo qui di coppia io Sky è una garantia che è di sempure le streghe idem quindi nulla nulla da dire e chiudiamo con i promossi con hit 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 c'è ragazzi il match i primi cinque minuti mi hanno preoccupato vi dico la verità i primi cinque minuti rallenti ho detto mamma mia è un parto questo match però poi si è acceso nel finale e sono stato contento era in aspettato cioè io non me l'aspettavo la vittoria di Jay chi ha seguito le vecchie live potrà dirvi che comunque ritenevo quasi mandare Jay contro Brown Breaker quasi una cosa sprecata perché la vittoria di Brown Breaker pareva poi alla prima difesa tra virgolette seria pareva l'assoluto vincitore e invece ha vinto Jay ha vinto Jay non mi stupirei se lo dovesse perdere nel breve tempo nel breve tempo in un breve lasso di tempo ecco in una rivincita contro Brown Breaker per poi fare la bella ipotizzo in Arabia però no contento finalmente Jay ha quello che si merita per quello che ha fatto per quello che ha dimostrato di saper fare in singolo nessuno avrebbe scommesso un euro nemmeno io fondamentalmente cioè sinceramente che riuscisse andare così over e invece i miei occhiali lo possono testimoniare cioè fenomenale giustissimo dare questo riconoscimento a a Jay Uso e finalmente ce l'ha ce l'ha fatta ce l'ha fatta e ce l'abbiamo fatta per noi che siamo fan di Jay detto questo amici io ho terminato vi ricordo per l'ultima volta di dirmi la vostra nei commenti di lasciare il segue al canale è un bel like noi ci vediamo la prossima qui su youtube e così ho deciso l'udienza è tolta